Quanti iscritti? Come aumenti? Come fai? Se ci guardi per un minuto capirai. Lui viene e Dio Mattia, siamo in società, i due, le unissiamo. Puoi parlarci dell'algorismo dei tuoi likes, i migliori sul canale siamo noi. È un account specializzato, tra l'inscrizione vedrai che non ti pentirai. Noi scopriamo canali e non sbagliamo mai. Noi sapremo sfruttare le tue abilità, dacci solo quattro iscritti e noi crederemo per te un video per la popolarità. Non vedi che è un vero affare, non perdere la connessione, se no poi ti disiscriverai. Non capita tutti i giorni di avere due youtube, due canali, che fanno crescere te. Avanti non perdere il tempo, clicca qua. È un normale sociale formalità. Tutti i cedi, tutti gli iscritti e noi crederemo per te un video da big youtube. Non vedi che è un vero affare, non perdere la connessione, se no poi ti disiscriverai. Non capita per tutti i giorni di avere due youtube, due canali, che fanno crescere te. Quanti iscritti, come aumenti, come fai. Che fortuna che hai avuto a spammare noi. Due milen, e Dio Mattia, stiamo in società. I due, le mui siamo. Di noi, ti puoi feda. Di noi, ti puoi feda. Ciao.